Assemblea pubblica organizzata a Taranto d'Articolo 1, internalizzazioni ASL, facciamo il punto. È intervenuto per fare numerose precisazioni e spiegare l'importanza del provvedimento Milo Borracino, Assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. Si tratta di un'iniziativa molto importante per la delicata problematica trattata che riguarda il futuro lavorativo di centinaia di lavoratori in Puglia. Il 25 novembre scorso l'Aggiunta regionale aveva approvato le linee guida in materia di organizzazione e gestione delle società in house, delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Un provvedimento che si aspettava da anni, dato che le ultime linee guida risalgono al 2013. L'approvazione di questa delibera apre la strada finalmente alla stabilizzazione di molte centinaia di lavoratori in ogni ASL pugliese. Pensiamo ai servizi CUP, ai servizi informatici, alla logistica e distribuzione del farmaco, autisti e soccorritori. Si aprono prospettive straordinarie anche per i lavoratori precari e i volontari del servizio del 118. Le linee guida infatti prevedono l'internalizzazione del servizio del 118. I dipendenti delle associazioni, i volontari potranno rientrare nelle assunzioni che farà la Sanita Service appena saranno messe in atto le linee guida che la Regione ha approvato. In particolare a Taranto sono circa 260 i lavoratori di ditte esterne che grazie a questo provvedimento potranno essere assunti direttamente nel sistema sanitario.